La volta scorsa abbiamo visto che gli ambiti di applicazione del codice possono essere raggruppati in due tipologie. Abbiamo gli ambiti soggettivi, ovvero quelli in cui vengono individuati una serie di soggetti che possono essere coinvolti con un apparto. Tra questi vi sono ad esempio le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori ed aggiudicatari e le stazioni appartanti. Le vedremo tutti nel dettaglio di qui a poco. Possiamo avere poi gli ambiti oggettivi che riguardano l'esecuzione dei contratti di apparto, ovvero per ambito oggettivo si intende ciò che verrà poi a costituire l'oggetto del bando. Questi possono essere appunto a parte riguardanti dei lavori, dei servizi o delle forniture e li vedremo di qui a poco nella loro definizione. Per quanto riguarda gli ambiti soggettivi, questi possiamo avere i soggetti che prendono parte in un apparto, comprendono in primo luogo le amministrazioni aggiudicatrici, che con questo termine si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, quindi tutti quegli enti che operano con riferimento ad uno specifico territorio, altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, le unioni e i consorsi. Poi abbiamo molto simili ai precedenti gli enti aggiudicatori, i quali sono quegli enti deputati, appunto, come dice il nome, ad aggiudicare poi i contratti di appalto. In particolare questi contratti di appalto potranno essere raggruppati in... gli enti aggiudicatori deputati alla loro gestione possono essere raggruppati a contratti di appalto che riguardano lavori, servizi o forniture, e per questi operano le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e altri enti, e poi i contratti di appalto che invece riguardano le concessioni. In questo caso, appunto, abbiamo alcuni enti che saranno deputati unicamente per l'aggiudicazione degli appalto riguardanti appunto le concessioni. Poi si parla spesso di soggetti aggiudicatori, per i quali si intendono appunto tutte queste amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, i soggetti pubblici e privati che sono appunto assegnatari privati o assegnatari di fondi. Poi possiamo avere altri soggetti aggiudicatori, che comprendono in particolare soggetti privati, che comunque dovranno, sono tenuti per contratto ad applicare appunto il codice dei contratti. In generale, tutti gli enti precedenti, che quindi riguardano le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, i soggetti e così via, vengono raggolpati in un unico termine, che è quello di stazioni appaltanti. Quindi includono tutti quei soggetti che hanno lo scopo di produrre e aggiudicare dei contratti di appalto. Poi abbiamo i soggetti aggiudicatari invece, con i quali si intendono tutti quegli operatori economici che possono produrre delle offerte e possono candidarsi, diciamo, per aggiudicarsi un appalto. Dal punto di vista invece dell'ambito oggettivo, andiamo a vedere cosa si intende in primo luogo per appalto. L'appalto deve intendersi un contratto stipulato a titolo oneroso, quindi previo corrispettivo in denaro, che viene stipulato in forma scritta e viene appunto stipulato tra una o più stazioni appaltanti, che comprendono quindi tutti i soggetti che abbiamo visto prima, e uno o più operatori economici, che sono coloro che presentano le offerte per aggiudicarsi l'appalto. L'appalto, l'oggetto dell'appalto, può comprendere ad esempio l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, quindi lavori, servizi o fornitura. Per lavori andiamo a vedere cosa si intende nel dettaglio. Possiamo avere, per esempio, dei lavori che riguardano la costruzione, la demolizione, le terribilazioni, le perforazioni, l'installazione di impianti, l'intonacatura, eccetera. Quindi tutti questi comprendono, fanno parte dei lavori. Quindi ad esempio la costruzione di un fabbricato che servirà per uffici comunali e così via, la demolizione di vecchie strutture e così via. Ma i lavori, inoltre, comprendono anche solo la progettazione esecutiva e la redazione di un progetto esecutivo, ovvero quel progetto che serve per andare poi a realizzare l'opera e la corrispondente esecuzione di un'opera. Anche questi possono essere ritenuti lavori, servizi, contratti di appalto di lavori. E infine fanno parte dei lavori anche, ad esempio, la realizzazione di un'opera per soddisfare le esigenze dell'amministrazione giudicatrice o dell'ente aggiudicatore. In questi casi si differenziano dal precedente perché l'ente che dovrà soddisfare le proprie esigenze e può avere, diciamo, voce in capitolo in quello che è la progettazione dell'oggetto di appalto. Poi abbiamo i servizi, invece, comprendono tutte quelle prestazioni diverse dai lavori che non possono quindi essere, non possono ricadere negli ambiti, nell'oggetto che abbiamo visto prima. E infine abbiamo le forniture di prodotti che comprendono l'acquisto, la valocazione di prodotti in generale, di consumo e di utilizzo delle amministrazioni. Si includono in questo caso anche la loro installazione posa in opera. Nell'ambito oggettivo, oltre agli lavori e ai servizi, gli appalti possono riguardare anche le concessioni. Per concessione di lavori, in particolare, noi possiamo avere due tipologie di concessione. La concessione di lavori o la concessione di servizi. Nella concessione di lavori, il contratto riguarda l'affidamento, sempre in forma scritta, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori. Quindi, diciamo, è una specie di contratto sia di lavori che di concessione. Poi abbiamo la concessione di servizi, invece, che riguarda l'affidamento, la fornitura, la gestione di servizi che non possono essere ricompresi nella concessione di lavori precedente. Si differenzia il contratto di concessione da quello di contratto di appalto di lavori, servizi o forniture che abbiamo visto prima, per il fatto che il concessionario ha una serie di diritti. In particolare, nelle concessioni, in generale, viene riconosciuto al concessionario il diritto di gestire l'opera o il servizio che ha realizzato. Questo riconoscimento avviene a titolo oneroso e il concessionario, inoltre, si assume il rischio operativo di questa gestione, realizzazione e gestione. Ovviamente questo sempre prevedendo delle condizioni di servizio normale e senza che vi sia recupero di quello che è necessariamente il recupero delle somme investite. La durata della concessione è limitata nel tempo e viene in generale determinata nel band, qualora si superino i 5 anni e in generale questa durata viene sempre ad avere come massimo il periodo necessario, il periodo di tempo necessario al concessionario per recuperare, secondo quelle che sono le previsioni, le somme che sono state investite. Poi possiamo avere altre tipologie di contratti, tra queste vi sono ad esempio i concorsi di progettazione e i contratti di partenariato pubblico-privato. Per concorsi di progettazione si intendono le procedure, tutte quelle procedure con cui le stazioni appartanti vanno ad acquisire un piano o un progetto dopo averne selezionato uno tramite una commissione giudicatrice e qui si può prevedere anche l'assegnazione di un premio. Questi gli ambiti dei concorsi di progettazione possono riguardare ad esempio la pianificazione territoriale, forestale, paesaggistica, naturalistica, il verde urbano e l'elaborazione dei dati. Altro contratto importante è quello di partenariato pubblico-privato che è invece un contratto sempre a titolo oneroso tra uno o più stazioni appartanti e uno o più operatori economici per andare a realizzare, trasformare, manutenere e gestire un'opera con l'assunzione del rischio.